Ho lasciato il cane da solo, ho lasciato il boxerino da solo, guardate, guardate cosa ha combinato il mio boxer, è riuscito a saltare sul tavolo, ovviamente non è riuscito ad avere un grande slancio, però ha rotto un succo, un cartone di succo, è riuscito a aprirlo, a romperlo, Adesso andiamo a vedere in che situazione è la casa, io pensavo di poterlo lasciare, ovviamente lui è qui bello, bello in panciole, che se ne frega naturalmente, fatti vedere, maledetto, maledetto, ma hai rotto il succo, Lui è qui che si sollazza, però il danno ormai l'ha fatto, hai capito? Perché hai rovesciato il succo? Perchè? Perchè? pourquoi?